Ieri sono entrate in vigore le nuove norme che allentano ulteriormente le misure di prevenzione del Covid, come la fine dell'obbligo di Green Pass e dell'utilizzo delle mascherine al chiuso, con poche eccezioni. Una decisione adottata dal Governo per far tornare l'Italia alla normalità, nonostante il numero di contagi sia ancora elevato. Ieri sono stati 40.757 e i decessi siano costantemente sopra le 100 unità. Ma la pressione sugli ospedali è in costante diminuzione e la pandemia al momento sembra sotto controllo. La Sardegna sotto questo profilo rimane ancora in bilico, con numeri che ad aprile sono rimasti in linea con quelli di marzo. C'è uno zoccolo duro di contagi che non si riesce a scalfire. Ad aprile i contagi sono stati 47.301, in diminuzione rispetto ai 52.493 di marzo. Rimane elevato il numero di decessi, che sono stati 110, portando il totale dall'inizio dell'anno a 487, un quinto dei 2.353 registrati dall'inizio della pandemia. Quello dell'elevato numero di decessi rimane il problema principale dell'andamento del Covid in Sardegna, con un'intera generazione di ottantenni e novantenni spazzata via. Ad aprile è rimasta sostanzialmente stabile l'occupazione dei reparti di area medica, che a inizio mese contava 325 ricoverati, che sono scesi a 308 il 30 aprile. Dei mezzati invece ricoverati in terapia intensiva, calati da 24 a 12. Dei mezzati in terapia intensiva. Grazie. 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 Grazie.